Ciao ragazzi, bentornati in questa review flash di tre giocatori, sempre in ambito del footbird e abbiamo da analizzare il buon Tarabt, il buon Sar e il buon Berguin di cui mi avete chiesto veramente in tanti direi di partire subito, senza averci troppo in chiappe, da Tarabt, il quale lo vediamo 5'4, 1,85 m piede destro delle stats di velocità che risultano essere tutto sommato buone, anche per quanto riguarda il tiro 96 potenza tiro finalizzazione un po' con l'80 non è che sia proprio il massimo della vita ottimi i passaggi sia al corto che al lungo con effetto 99, agilità 90, equilibrio 85, reattività 84 sono dei parametri interessanti, forza 98, aggressività 93, anche qui stiamo parlando di parametri che sicuramente sono top e l'unico problema di Stotarabt è la nazionalità e il campionato dunque risulta secondo me scarsamente ibridabile ma qualora nella vostra squadra abbiate delle icon e Stotarabt ti volete dare un try, se non erro il prezzo non è neanche così alto e secondo me il ruolo perfetto per questa carta è data anche l'aggressività vista anche la sua stazza all'interno del gioco e la mezzala, questo secondo me da mezzala può veramente fare la differenza in alcune squadre, a me se non concesso che visto comunque il piede debole 4, può anche essere messo a fare il C.O.C. abbinato comunque passaggi buoni ma vi ripeto, secondo me la mezzala è proprio il ruolo che meglio gli si addice passiamo invece al buon Sar che è uscito ieri e rendimento basso alto in difensore centrale 1,82, 5,4 quindi gli hanno boostato le stelle skill in maniera importante velocità che è buona considerando che si tratta di un difensore centrale passaggi anche 88 di corto e 82 di lungo sono tanta roba agilità 89, equilibrio 84, reattività 88 lo rendono veramente, secondo me, scivoloso con l'L2 quando vi mettete lì a temporeggiare su quelle che sono le linee di passaggio anche la freddezza 94 è significativa e sintomatica di una carta insomma bella importante statistiche di difesa, intercettazione 86, lettura difensiva 83, contrasto in piedi 88 scivolato 84 sono veramente notevoli considerando anche il costo non altissimo dell'SBC e poi fisico, elevazione 93, resistenza 88, forza 94, accrescita 81 sono lodevoli considerando che settimana scorsa è uscito il buon Amavi che appunto è dello stesso campionato e della stessa nazionalità Stosar, secondo me, se avete necessità ve lo potete sbloccare tranquillamente e in più, anzi, sapete che cosa vi dico? ritornando al discorso che vi dicevo nel video dell'analisi invece delle carte scambiabili il buon Teo Hernandez che secondo me può essere utilizzato da difensore centrale può essere scambiato proprio con Stosar questo Stosar, secondo me, il terzino lo può fare voi direte, cavolo, ma ha solamente 82 velocità sì, ma non risulta essere un problema perché secondo me questo in game, vista la sua agilità, risulta comunque bello scattante quindi, secondo me, uno switch tra Stosar e Teo Hernandez ci potrebbe stare altrimenti ve lo potete sbloccare a difensore centrale se vi serve questo qui, secondo me, potrebbe risultare valido e potrebbe tornare al caso vostro ma arriviamo al main man, l'uomo principale il buon Steven Berguine che veramente mi ha tolto il sonno perché me l'avete chiesto in tantissimi 1,78, piede destro 5,4 quindi, insomma, problemi di piede debole non dovrebbe averne una velocità pazzesca anche per quanto riguarda le stazze di tiro siamo su parametri interessanti con 84 finalizzazione 95 potenza tiro tiri alla distanza 82 un po' così e così passaggi il corto ottimo il lungo un po' meno l'87 sicuramente in effetto da una mano agilità 85 equilibrio 96 attività 87 freddezza 83 sono parametri che abbinati anche al suo body type lo rendono comunque agile all'interno del gioco quindi sicuramente si va a girare in maniera discreta poi per quanto riguarda invece elevazione, resistenza e forza anche lì parametri che sono sicuramente buoni ma il prezzo secondo me è il problema principale perché 400k comunque per una carta non scambiabile di sti tempi che sebbene siano incerti siamo comunque a ridosso dei vari tots eccetera eccetera sebbene sia vero che non insomma non è che c'è questa grande abbondanza di esterni destri soprattutto in Premier c'è il solito Marez c'è Salama che con quel 2 piede debole per me è inguardabile c'è Dama Troré che è la stessa cosa piede debole è inguardabile e questo qui se soprattutto riuscite a ridurre il prezzo con dei non scambiabili secondo me ve lo potete sbloccare e lo potete piazzare tranquillamente sia da esterno che da punta in un'attacca a 2 perché vi potete girare sia sul destro che sul sinistro quindi imprevedibili al massimo e secondo me il prezzo proprio ideale sarebbe un 150k e ve lo portate a casa vi togliete il pensiero anche perché pensavo che essendo olandese lì poi come terzino no mi sa che dovreste piazzarci ho un terzino icon volendo ho un un terzino di di Premier perché quest'anno manca sia oriega e del Tottenham sia il buon Dumfries che l'anno scorso era super buggato se vi ricordate e niente quindi questo è il giudizio su queste su queste tre SBC e è nulla andatevi a vedere pure l'altra analisi su quelle sulle carte invece che sono uscite scambiabili nulla vi saluto ci vediamo presto grazie